far diventare un uomo dipendente da te due potenti tecniche allora quando si parla di far diventare un uomo dipendente o una donna dipendente ci sono subito i come dire ben pensanti bigotti che dicono ma queste manipolazioni gli fanno versi strani no allora diciamo questo che come diceva qualcuno in un libro o si domina o si è dominati oppure potremmo anche dire che o si manipola o si è manipolati o si seduce o si è sedotti quindi esiste questa dualità quindi e tal tra l'altro siccome non possiamo fare a meno di comunicare tanto vale imparare a farlo bene questo credo che sia una cosa molto importante credo che sia un concetto fondamentale quindi è inutile che farti ben pensanti è inutile che fate le margacozze perché poi intanto vi interessa sedurre vi interessa manipolare vi interessa conquistare l'uomo che vi piace insomma avete queste esigenze fondamentalmente il momento in cui uno ha un'esigenza è perché ha un fallimento sottostante quindi siete dei falliti fondamentalmente ma comunque fallito non fallito vediamo quali sono due potenti tecniche per rendere dipendenti beh qua dobbiamo rivolgerci diciamo a esperimenti fatti a suo tempo da skinner che li fece sui topi ma diciamo che uomini e topi si assomigliano anzi c'è qualcuno che diceva che gli uomini sono più come dire più stupidi dei topi da un certo punto di vista è un esperimento interessante quello di creare un'aspettativa e poi toglierla e la persona andrà comunque a vedere a cercare andrà a voler testare e lo farà tantissimo cioè se gli crea l'aspettativa di essere disponibile e poi gliela togli ne crea un forte condizionamento questo fatto un esperimento in cui con degli studenti non si mettevano del dei rinforzi positivi cioè che erano praticamente dei dollari 50 dollari in un posto nascosto dove poi uno casualmente lo trova trova 50 dollari poi gli viene voglia di andare a vedere lì e scalava le montagne insomma per andare a quel posto lì non scalava le montagne però erano un po' imbriccato insomma nascosto e quindi richiedeva una certa fatica e ritornava dopo un certo tempo e trovava di nuovo 50 dollari allora sistematicamente andava poi più delle volte non trovava niente però continuava andare ogni tanto trovarsi 50 dollari e quindi continuava ossessivamente andare tutti i giorni in quel posto lì a scalarsi le cose farsi le scale eccetera perché ogni tanto c'era la ricompensa e lo stesso discorso è stato fatto con i topi no si faceva attraversare dopo un labirinto incasinato complicato però in fondo c'era la ricompensa ovviamente non erano i dollari per il topo ma erano i soldi e anche qua i topi diciamo continuavano a ossessivamente a fare quel percorso nella speranza di trovare la moneta per il topo quindi il formaggio diciamo così o quello che era e però dopo un po di volte diciamo di rinforzi basta non si è messo più niente e allora e allora dobbiamo tenere presente un qualcosa di fondamentale che successivamente i topi dopo un po hanno smesso di fare il percorso ma invece gli umani no ancora oggi ogni tanto qualcuno va lì a vedere se ci sono i 50 dollari o meno anche se sono anni che non ci sono più questo cosa significa? Significa che gli esseri umani sono molto influenzabili quando ricevano una sorta di rinforzo intermittente cioè in un mare di nulla ricevano qualche gratificazione che però deve essere sporadica e si agganciano continuano ossessivamente a fare quel comportamento e quindi se tu vuoi potentemente sedere un uomo devi dargli un rinforzo intermittente devi dargli ogni tanto una gratificazione in mezzo a un mare di merda diciamo così un po' di cioccolato ma questo cioccolato deve essere raro e poi smetterai di dargli gratificazioni solo merda e lui tanto continuerà nella speranza della gratificazione questo lo renderà dipendente perché poi si innesca un meccanismo che più fa più si coinvolge questo devi tenere presente cosa vuol dire? Beh vuol dire semplicemente che più è disposto poi a fare per ottenere qualcosa da te che sia sesso che sia qualunque cosa più si coinvolgerai più si coinvolgerai emotivamente questa è una tecnica manipolativa che viene usata in diversi settori anche nel gioco d'azzardo ad esempio perdi sempre ma ogni tanto c'è qualche vincita e quella qualche vincita casuale imprevedibile che spinge le persone a diventare dipendenti dal gioco d'azzardo questo è il concetto quindi crea i dipendenzi e l'altro creare ossessione un pensiero ossessivo è quello di lasciare delle geste altaperte questo si chiama effetto Zeigernick l'ha scoperto la psicologa Blum Zeigernick quando dice delle cose ambigue non certe ma sì forse ci vediamo ma devo vedere devo capire non so forse sì forse no lasci una gesta alta aperta la persona inizierà ossessivamente a pensare ci vediamo non ci vediamo ci vediamo non ci vediamo inizierà a direzionare i suoi pensieri su di te e anche qua scaturisce un meccanismo per cui se tu direzioni inconsapevolmente i pensieri però questa inconsapevolezza poi diventa consapevolezza e quindi ti rendi conto di essere innamorato ti rendi conto di essere coinvolto ti rendi conto di essere sedotto questo è interessante questa cosa perché ti fa capire che hai un coinvolgimento e che non puoi fare a meno di essere coinvolto perché il tuo pensiero è direzionato lì quindi impara a lasciare delle geste alte aperte impara a dire non dire impara essere ambigua più ambigua sei più misterioso sei più genererai dipendenza dipendenza proprio da questa ambiguità dipendenza proprio da questa diciamo essere poco chiari ecco queste due strategie sono molto potenti per rendere un uomo dipendente da te sono veramente molto potenti per metterli in atto nel modo corretto devi essere libera mentalmente non deve avere pattugne e paranoia mentali e vedrai che vedrai che andrà benissimo riuscirai a sedurre e conquistare tutti gli uomini che ti interessano bene cara Margachona per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Tramasco ufficiale su TikTok ma soprattutto ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonarsi è facile basta andare nella home page tastino abbonati che si avvicina a tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci cara Margachona